salve a tutti oggi parliamo di catar gate cosa è successo perché è scoppiato questo scandalo e perché implica così tanti italiani è una cosa un po particolare di cui parleremo insieme a fausto carotenuto ciao fausto ciao a tutti ciao allora per cominciare io direi che faccio un breve riassunto per capire insieme cos'è esattamente cosa è successo in questo catar gate perché non tutti magari hanno avuto l'opportunità di seguire tutto quello che è successo insomma un gruppo di parlamentari ed ex parlamentari europei ha apparentemente accettato mazzette dal governo del catar la polizia belga accusa questo circuito di fan di cui fanno parte fondamentalmente esponenti italiani del pd dei radicali e del partito greco pasok queste persone sono accusate di organizzazione criminale corruzione e riciclaggio le figure principali del caso sono una vice presidente del parlamento europeo eva kaili ex l'ex eurodeputato antonio panzieri e niccolò figata la manca che sono a capo di due ngo coinvolte nello nello scandalo nella lista dei membri onorari del board della ong di panzeri che si chiama ironicamente dico io fight impunity figurano federica mogherini l'ex ministro degli esseri della ue l'ex primo ministro francese bernard caseneuve e l'ex commissario europeo all'immigrazione dimitris avramopoulos l'altra ngo coinvolta che si chiama no peace without justice risiede stranamente allo stesso indirizzo di in cui risiede fight impunity a 41 di rio du cal a bruxelles ed è stata fondata da emma bonino che appare anche lei tra i membri del board onorario di fight impunity di fight impunity insieme alla mogherini a tutti gli altri in pratica questo circuito è accusato di aver preso soldi per influenzare le politiche europee in favore del qatar in special modo per l'operazione mondiali ma sembrerebbe anche per far sì che i cittadini del qatar potessero entrare in europa senza visto un po come se fossero europei anche loro per il momento si parla solo di questo e molti giornalisti europei lo stanno chiamando il più grande scandalo politico della storia della ue ma mi chiedo perché dovrebbe essere lo scandalo più grave d'europa se in fondo si parla di spiccioli se si parla al funziona al normale funzionamento quello si scandaloso del sistema lobbistico di bruxelles cioè esiste un sistema lobbistico paurosamente corrotto che influenza le grandi politiche finanziarie economiche sanitarie della ue e lo scandalo più grosso sarebbero questi 600 mila euro che hanno stimolato nelle perquisizioni tu che ne dici come fausto come al solito ci stanno raccontando la mezza messa sì anche se poi ne hanno trovati altri 750 in bigliettoni manco tanto grandi nei sacchi di a casa della greca quindi ogni giorno però insomma non siamo i miliardi sì sempre sempre con quattro con quattro diciamo con quattro mezze figure che devo fare dei mezzi discorsetti per rientrare un parlamento europeo no vuoi spendere più di due spicci no però sono utili e poi diciamo che sono facilmente in vendita il prezzo di queste persone esprime anche la loro statura la loro statura politica la loro statura morale viene espressa dal semplice fatto che ci sono dei soldi in mezzo ma la statura politica viene espressa dalla quantità di soldi che sono necessari per comprarli quindi questo sono così fanno i servizi ecco si chiama si chiamano prostitute politiche per dirle proprio in termini chiaro allora sì ma scusa se ti interrompo però cioè per dire anche a chi ci segue che questa non è cosa nuova già nel 2011 il sunday times ha tirato fuori uno scandalone perché degli inviati dei giornalisti siano finti dei lobbisti e avevano proposto mazzette in giro a vari eurodeputati e tre sono addirittura finiti in galera per questo scandalo ma insomma la corruzione nel sottobosco lobbistico di brussell è data per scontata sì nel senso che a brusselli in particolare ci sono lobbisti intorno a tutti a tutti i parlamenti il primo lobbismo di dimensioni enorme istituzionalizzato è quello americano c'era la lobby israeliana che si occupava delle armi sera lobby saudita che si occupava del petrolio e per ogni interna lobby del tabacco la roba di questo big farma con lobbisti istituzionalizzati in america l'ha istituzionalizzato almeno ci pagano le tasse noi non è stato istituzionalizzato però i lobbisti circolano da sempre in tutti i parlamenti circolano in tutti i partiti in italia in maniera enorme e al parlamento europeo ne circolano una quantità spaventosa tutte le multinazionali cioè tutti tutti gli interessi hanno dei lobbisti la e naturalmente sti politici bisogna pure pagarli e possibilmente sentasse per fare servizietti che fa però al di parlare degli scherzi perché la materia è pesante la quantità di lobbisti che c'è a brutta brussela e strasburgo è molto è analoga forse agli impiegati dell'unione europea i lobbisti con i loro apparati quindi immaginate che razza di di mercato di mercato delle lacche no e noi paghiamo e poi asco esce fuori che tutte le decisioni che vengono prese a livello europeo e poi imposte in italia sono praticamente un accordo tra lobbisti italiani e lobbisti multinazionali e i politici sono semplicemente burattini dei grandi poteri che muovono i poteri finanziari da cui vengono i lobbisti quindi questa è la storia cioè quello che mi meraviglia fino a un certo punto è perché sono venuti fuori proprio questi qua perché se uno voleva far venire fuori uno scandalo la polizia belga apriva un po d'armati e gli venivano giù il materiale che seppelliva quello che andava prima al radio quella stessa cosa accade per carabaniere finanza da noi è uguale cioè il problema è solo scegliere al momento giusto qual è il nemico da colpire e perché il nemico da colpire può anche essere l'amico del giorno prima che ne dice ricco assolutamente è quello è quello che stavo pensando anch'io per quello dicevo possibile che la polizia belga non vada a guardare se ci sono state magari delle improprietà nel genere gestione del momento pandemico piuttosto che nella gestione delle centrali nucleari piuttosto nella gestione della gestione di di affari ordini di magnitudine più grandi di quello che stanno lì è tutto a posto però questi sono il più grande scandalo dell'unione europea ecco ma questi ho notato io sono un gruppo un po particolare appartengono a un circuito un po particolare io ne avevo parlato di questo circuito anche tu ne parli spesso ma io ne avevo parlato in un articolo che avevo scritto nel 2016 mi sembra quando parlai dell'acquisizione del san raffaele della riacquisizione da parte del vaticano del san raffaele che fu fatta con i soldi dell'emiro del qatar e con i soldi di soros ora stranamente queste le persone coinvolte hanno reale relazioni strette con entrambi circuiti cioè fanno parte dello stesso circuito perché una ngo ngo fondata dalla bonino che è il braccio operativo di soros in italia fondamentalmente e anche ufficialmente delle principali fondazioni di soros e e lo scandalo è legato comunque ai soldi che provengono dal qatar che comunque sono sicuramente soldi le sicuramente vedremo vedranno decideranno i giudici però il fatto che siano se sono 600 mila che sono un milione e mezzo sono sempre bruscolini però la questione strana è che vengono sono bruscolini del qatar e di soros mi spiego sì ora delle volte delle volte sono segnali diciamo quello che sta accadendo e che sia soros che il qatar fanno parte di quella di una delle due grandi piramidi di cui noi parliamo sempre e fanno parte questa è non la stranezza ma è un segnale fanno parte della grande piramide gesuito massonica che in questi anni è stata stravincente lui praticamente tutta in mano spesso con draghi e con altri l'italia in mano biden in mano che vi devo dire strike il papa in mano e tutte queste vicende si possono più facilmente comprendere sulla base di questo nostro modello interpretativo che non è una tesi le cose stanno proprio così a salire un po nei 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 livelli del potere adesso qui è molto interessante la questione e poi bisogna capire perché in questo momento allora segnali di bilanciamento tra le piramidi perché la piramide gesuito massonica era di consultato ormai troppo vincente rispetto alla piramide conservatrice che ha dominato in decenni precedenti diciamo c'è un potere superiore che fa il divide di impera tra le piramidi che è un potere oscuro è un potere fatto di gente che tutti chiedono ma chi sono questi e sono poteri anti umani che che non si vedono apparentemente no e i cui uomini non si conoscono ma questi uomini dominano la finanza che a sua volta domina queste piramidi e quindi è un potere che non può dare troppo potere ad una delle due piramidi perché poi rischia di sfuggirle il controllo e quindi per tenere tutti sotto controllo fa il gioco delle piramidi una contro l'altra ma tutte dipendono sempre da quel livello ora che cosa noi siamo abituati negli ultimi anni a vedere la piramide gesuito massonica stravincente no facciamo l'esempio dell'articolo che tu hai scritto tempo fa no allora il san raffaele era della piramide conservatrice era un gruppo voitiliano della chiesa conservatrice che noi chiamavamo opus deista e stranamente quando arrivano i gesuiti al potere in vaticano comincia a fallire e si svelano tutti gli scandali che c'erano dietro raffaele che lo portano a fallimento si è stato proprio che ha cambiato casacca e potere perché in mano ai gesuiti organizza un giro nel quale due elementi fondamentali della fondamentali come come datori di soldi che sono soros e il catar intervengono dando però la gestione al vaticano qui il vaticano la corrente gesuita gestisce il san raffaele con i soldi della corrente perché quelli non sono mica nessuno dei due è cattolico messo poros né il catar tantomeno ma se vuoi arrivo approfondiamo un attimo proprio brevemente con due frasi da dove vengono le storie di soros i soldi di soros e soldi del catar beh mi sembra mi sembra il caso di farlo brevemente perché sennò potremmo starci qualche settimana libro lo dico molto breve soros ha cominciato a fare i soldi appoggiato da una parte importante della finanza internazionale e da una serie di traditori di varie patrie facendo nel 92 la prima speculazione sulla lira che ci ha impoverito tutta l'italia per la quale dovrebbe essere condannato lui e i banchieri italiani che gli elementi dello stato italiano che lo hanno favorito a cose tipo l'ergastolo però da noi passa come lui si arricchì in maniera enorme fece lo stesso scherzo mi pare in indonesia e maleso in thailandia lì è stato condannato a morte se ci passa lo fanno secco da noi è un eroe che dietro a tutto quello che si chiama open bella metà il partito radicale la fondazione open di renzi chissà perché si chiama tutto quello che è open siamo aperti ma non dimentichiamo laureato onoris causa da mi sembra l'università di bologna c'è proprio beh ma lui viene da da un connubio strano no lui è un ungherese di famiglia di un certo tipo di esoteristi ebraici qui in un lit strana quindi lui studia la london school of economics ma non studia economia studia filosofia e poi stranamente se lo prendo di Rothschild a lavorare in una loro company a londra alla city e dopo un po si ritrova wall street a lavorare per i Rothschild e lì un po la volta poi la lasciano fare insomma no perché ormai ha capito tutto poi lui non è solo un finanziere è anche uno che si intende di forno pensiero no perché viene da quella corrente lì quindi a lui lasciano fare i soldi i nostri banchieri di allora i nostri capista allora hanno tradito la patria consentendogli di farlo vi ricordate quando poi l'italia si è impoverita improvvisamente ricordate tutti i nomi dei presidenti del consiglio e dei dei capi dei governatori della banca d'italia in quel momento li potreste mettere in fila per capire sapendo che poi appartenono alla stessa corrente della finta sinistra e saliana gesuito massonica questo è soros e quindi soros ha alimentato questa cosa e adesso comincia a finire sotto attacco anche quello che fanno le sue persone come in questo caso questo è un segnale è un segnale perché ci sono pochi spiccioli come dire ragazzo calma o stai attento anzi o non stare attento che intanto ti stiamo attaccando vedremo l'altro elemento fondamentale è il catar il catar si è staccato da tutto il complesso degli emirati del golfo staccandosi dall'arabia sodita che era uno dei punti di forza della piramide conservatrice mondiale no lui si è staccato ed è entrato i suoi capi gliel'hanno fatto fare e i capi sono la bassoneria inglese infiltrata dai gesuiti e quindi hanno preso questi emiri altani nominati dagli inglesi da sempre no da quando sono al potere gli inglesi l'hanno messi lì e con loro loro giocano il gioco del divide d'impera da una parte la rabbia sodita da una parte il catar e il catar è uno di quelli che partecipa a questo gioco di strategia dell'attenzione quindi il catar ospita i fratelli musulmani il catar finanzia hamas il catar ha finanziato le rimanere arabe che sono servite a chiarire un disastro in medio oriente il catar ha finanziato il terrorismo e stranamente il emiro del catar gli emiri quello attuale tamim il padre eccetera eccetera sono anche ufficiali dell'esercito inglese non so l'ultimo ma quello precedente sì comunque anche l'ultimo è uscito dall'accademia di sandhurst cioè è un ufficiale dell'esercito inglese chiaramente sono famiglie che hanno aderito alla massoneria internazionale ma sono strumenti cioè se no quel gruppetto di beduini con un capo beduino di un paese poverissimo non dimenticavano diventavano i burattini di un potere più forte che servivano a creare un enorme cassa nera di denaro nero che serviva a finanziare senza controllo che serviva a finanziare tutte tutte le cose più oscure quindi questo è questi due qui sono due casse oscure soros e il catar ancora funzionano è funzionano alla grande ma scusa scusa fausto ma il catar dici era poverissimo però è piano di petrolio come faceva essere poverissimo di petrolio e pieno soprattutto di gas e qui c'è una storia strana che nessuno conosce com'è che questi qui erano veramente 200.000 150.000 abitanti del deserto e l'unica cosa che potevano fare era pescare le perle no era quello il principale industria e beh ma questi furono messi lì così come gli altri niri dalla massoneria inglese la massoneria inglese poi col tempo è sempre stessi ci siamo accorti che era abbastanza uno strumento di un'alleanza gesuito massonica di una parte della massoneria ma la più importante solo che a un certo punto si comincia si sapeva che al centro del golfo persico c'era un deposito di gas dei giacimenti gas enormi e si comincia a sfruttarli però i giacimenti di gas erano a metà perché sono in mezzo al golfo persico tra iran e catar ora il problema è che quando i giacimenti sono in comune chi li sfrutta prima li sfrutta di più o si accordano per sfruttarli contemporaneamente se no quello un po all'oltre si esaurisce chi lo sfrutta prima ce ne vuole ancora ma intanto chi lo sfrutta prima ha fatto un sacco di si è preso la parte del leone diciamo poi una cosa è lo sfruttamento di un paese di 70 milioni di abitanti 60 quanti neri all'ora è una cosa un posto con 200 mila persone ok avanzano un po di soldi in più che dite ma parliamo di somme pazzesche allora che cosa succede e vediamo certi momenti di storia da un altro punto di vista e succedono cose strane succede per esempio che proprio mentre il catar sta pompando pompando e l'iran sta si sta cindegendo a cominciare a pompare questo gas in quantità enormi c'è prima la rivoluzione in iran che dal mio punto di vista è stata facilitata dal complesso angloamericano per fare fuori lo sha che pure allora alleato per cambiare gli equilibri poi tanto per evitare proprio che facesse qualche cosa in più l'irac su suggerimento americano e anglo americano attacca l'iran e quindi l'iran è bloccato non può fare nulla deve fare la guerra e questo dura anni a un certo punto c'è un consorzio italiano che decide di fare un contratto con l'iran finalmente per esplorare il golfo il consorzio italiano internazionale dei contratti enormi e stranamente di pietro arresta tutti gli italiani con tangentopoli che hanno firmato quel contratto il contratto non si fa più non è che qualcuno ha voluto favorire la costruzione di una cassa nera enorme a disposizione della strategia della tensione mondiale che favorisce la corrente gesuito massonica domando non è che lo sto dicendo effettivamente c'è una serie di sfortunate coincidenze che vuoi fare stranamente poi i fratelli musulmani hanno messo la loro sede e girano tranquilli a a doha tutti i movimenti connessi all'estremismo palestinese stanno a doha ma stranamente i fratelli musulmani il guai a conoscere la storia sono sorti in egitto quando c'erano gli inglesi che servirono agli inglesi a fare strategia della tensione da loro viene fuori hamas da loro vengono fuori una specie di polipo tutti i movimenti estremisti o anche non estremisti ma insomma che fanno un gioco particolare islamici per esempio erdogan è ufficialmente uno dei fratelli musulmani pensate grazie di giochi e pensate come erdogan gioca a fuori fratelli musulmani in in libia per esempio come non sono riusciti i fratelli musulmani a mantenere l'egitto l'hanno fatto fuori poi il gruppo conservatore appoggiato all'arabbia saudita ha fatto il colpo di stato militare con assisi no quindi c'è un gioco molto più complesso noi purtroppo in tutti questi anni o per fortuna tanto stare da una parte o dall'altra non è che cambia molto però siamo stati decisamente dalla parte della corrente gesuito massoni e quindi abbiamo lasciato che quella per noi era una grande risorsa come la libia finisse nelle mani di questo gruppo che poi ci ha estraniato completamente cioè questo gruppo ritiene noi una sponda sacrificabile questo è quello che stanno fare sì ne parlavo giusto appunto l'altro giorno in altri termini mentre facevo il seminario all'aquila e parlavo esattamente di questa cosa come come infatti denota il fatto che noi siamo l'unica l'unica nazione europea che agli stipendi di 30 anni fa e stipendi in italia sono fermi al 92 una cosa in audi in audita special modo per come andava la prima repubblica che tutti tutti ne parlavano male non eppure eppure economicamente e politicamente come dire outperform danno rispetto alla seconda repubblica che abbiamo vissuto gli ultimi trent'anni era un mostro di efficienza e di ricchezza di creazione la ricchezza diciamo sempre che c'era ancora una parte di politica corrotta evidentemente ma c'era anche gente che vina fuori dai movimenti della resistenza certo cristiani comunisti socialisti c'era gente che ci credeva moro mattei certo guarda un po' mattei che cosa ha pagato certo e moro che cosa hanno pagato loro e altri erano l'ostacolo che si arrivasse a questo punto con mattei la libia l'algeria l'iran sarebbero stati in buona parte in collaborazione con l'italia perché l'ha ammazzato per tutto questo per non farlo fare e dunque quindi impediva che si entrasse nell'unione europea come degli schiavi per questo hanno ammazzato e infatti ma ritorniamo un attimo a questo catar gate quindi abbiamo visto che stanno in qualche modo dando un segnale a un punto levragico della piramide opposta che è un punto da dove vengono i soldi ok e al punto di unione tra soldi neri e soldi della finanza diciamo e la politica nel caso italiano gli hanno tolto il governo per esempio anche no sì sono vari settori ora è chiaro che il gioco delle piramidi è complesso delle volte si mette contro addirittura facendo la guerra come in ucraina sono le due piramidi che stanno facendo la guerra naturalmente all'offensiva anche se sembra che la piramide conservatrice di cui fa parte putin non c'è una piramide migliore dell'altra insisto se no pare che parteggiamo però la parte più offensiva l'ha fatta la nato guidata la piramide gesuito massonica che ha messo alle strette un gigante cattivo gli ha dato i calci negli stinchi e quello ha reagito allora quindi quindi sono vari modi quindi i segnali attuali non si sa esattamente che cosa dicono dicono di un riequilibrio il riequilibrio può essere che finisca a cazzottoni ma può anche essere che finisca dicendo ok trattiamo rivediamo le reciproche posizioni tu non puoi avere il Papa Biden questo questo e quest'altro il Parlamento Europeo la Fonderlaia e tutti quanti questi elementi di finanza di industria eccetera eccetera che diventano solamente tuoi calma e sangue freddo riequilibriamo oppure non ci riusciamo e il vero della parte subito dice vabbè adesso menatevi così vi controllo meglio quindi vediamo certo che le cose non siamo più nella dittatura della corrente gesuito massonica il che è un buon segnale è meglio è meglio per noi è meglio che ci siano due poteri anche se entrambi cattivi che si fanno le bucce uno con l'altro almeno veniamo a sapere qualche cosa assolutamente almeno qualcuno deve favorire noi contro le intemperanze dell'altro o perlomeno nel frattempo che sono impegnati a menarsi magari si scordano rallentano un po' determinati processi che stanno portando avanti Enrico scusa? il problema è che si menano quei soldi nostri vabbè vabbè tanto si sono sempre menati quei soldi nostri però nel momento in cui c'è gazzarra tra le due piramidi le cose non procedono spedite che ne so il mondialismo si creano gli spazi di libertà si creano un genere spazi di libertà esatto infatti il cielo che è sopra il mondo spirituale li fa litigare o li fa dominare fino a che noi non ci accorgiamo di quello che stanno facendo e così noi cresciamo il risultato netto di tutte queste lotte di questi questi abomini di tutte queste schifezze è che noi le vediamo e ne ricaviamo la voglia di un mondo nuovo che stiamo cominciando a costruire bene ok grazie Fausto grazie Enrico salutiamo tutti gli utenti del canale se vi è piaciuto il contenuto per favore mettete mettete il like al video iscrivetevi alla pagina attivate la campanella delle notifiche in modo che quando ci saranno nuovi video potrete avere una notifica ci scusiamo per il ritardo con cui abbiamo postato perché è tanto tempo che non facciamo un video ma purtroppo siamo stati molto impegnati con i seminari e con altre attività che noi facciamo e quindi spero da adesso in poi che possiamo ritornare con una certa regolarità va bene arrivederci a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti